OVUNQUE SARAI È esattamente questo che oggi vogliamo raccontare all'Ora Solare. Non soltanto ricordare e tenere in studio con noi uno dei migliori uomini di televisione. Raccontare quel sorriso, raccontare quel papà. Il papà è Alberto Castagna e lei è Carolina Castagna. Sua figlia, la dottoressa, che so quel che dico. Questa meraviglia, lo so che adesso voi dite tutti, ma come quella bambina piccolina così. Quella bambina, lei, Carolina Castagna. Grazie, prima di tutto tesoro, grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Ci fa un piacere. Ho apprezzato molto, devo dire. Allora, noi vogliamo parlare. Di quest'uomo di televisione che è andato via troppo presto, che ha lasciato un segno indimenticabile. Ma vogliamo soprattutto parlare di questo papà. Perché quando un papà ti chiama Scarola, per capirci, al punto tale che anche la barca la chiama Scarola, che significa? Perché Scarola? Allora, Scarola nasce da papà. Nessuno ha mai osato chiamarmi Scarola. Carolina, Scarolina. Perché papà aveva questa tendenza ad essere un po' a memizzare, a cartonizzare le cose. Quindi Scarola diventa così, Scarolina, Scaroletta, Scarola, eppure una verdura a Scarola. Scarola, uomo meraviglioso. Attenzione perché sulla cucina torneremo. Noi oggi abbiamo su questo tavolo soltanto uno. Teneva la fabbrica dei telegatti, Alberto Castaglio. Non so neanche quanti ne abbia vinti, papà. Guarda, io ne ho quattro. E sono quelli di cui sono a conoscenza. Però non so se c'è qualcuno disperso. Dunque, vogliamo ringraziare e salutare anche Pucci Romano. Pucci Romano è la mamma di Carolina, la moglie che è stata per tutta la vita accanto ad Alberto, poi accanto, lontana, distante, separata, sempre vicina. Eccoli qua. In questa gioia, in questa felicità, vado subito con un colpo nello stomaco. Carolina ha sei anni quando il papà si ammala e tredici quando il papà chiude i suoi magnifici occhi a questo mondo. In quel lasso di tempo sei dodici, Carolina, quanto sei stata chiamata, pur attorniata da tanto amore, a crescere? Questa è stata una bella sfida, devo dire. Io sono stata catapultata in un vuoi o non vuoi, per forza di cose, a dover testimoniare la malattia, l'invalidità, la sofferenza, la possibilità che papà da un giorno all'altro non ci potesse più essere. E da una parte ovviamente mi ha forgiata e mi ha obbligata a crescere molto più in fretta rispetto agli altri. Dall'altra mi piace ora vederla anche dal punto di vista positivo, mi ha dato degli strumenti, mi ha dato una grande sensibilità, mi ha dato tante altre cose. Però sicuramente non è un'esperienza che augurerai a un altro bambino. Tu hai detto giustamente un genitore va via, muore, scusate, usiamo il verbo, e non c'è mai un tempo, no? Se morisse a cent'anni non ci sarebbe, avremmo avuto bisogno di cent'anni un giorno. Però io voglio insistere nella puntata di oggi, non solo nel ricordo, lo ripeto, di un uomo che ha fatto e continua a fare la televisione. Se vogliamo vedere come si conducano i programmi, studiamoci tantissimo di Alberto Castagna, avremo sempre qualcosa da imparare. Però voglio rimanere su questo sorriso. Cioè diventare papà, diventare tuo papà, per il tuo papà, ha significato boom, no, uno scoppio, uno scoppio, di coriandoli. Sì, lui credo che sia letteralmente impazzito quando sono nata io, figlia femmina, unica figlia, avuta tardi, perché comunque, vuoi o non vuoi, nella vita si è dedicato a tantissime altre cose, e poi ero oggettivamente, ero una bambina simpatica, ero una bambina, lui andava proprio fiero, strafiero di me, mi sponsorizzava potendo con chiunque, cioè ero la figlia più bella del mondo, ero la figlia più simpatica del mondo, ero la più brava a scuola, ero la più brava a nuotare, ero... Però mi aveva ragione. Ma oddio, insomma. No, scusa, non lo so, non lo so, scusate. Ditemi voi, ditemi voi, aveva pur ragione, no? Non so se qui sono peggio i suoi capelli o quello che mi hanno messo addosso, per cui chiamerei il telefono azzurro, però vabbè. Carolina, tu hai quest'arte, lo scopriamo oggi, guardate, ieri si diceva in redazione, Carolina è generosa, guarda, è una cosa bella, no? Perché noi li commentiamo, i nostri ospiti, prima di averli... No, li commentiamo perché diciamo, allora dirà, farà, e tutto quello che veniva fuori è... Carolina è generosa. E questo, al netto della tua mamma, è chiaro che noi salutiamo e abbracciamo con tutto il cuore, la quale ha telefonato qui dicendo, è arrivata? È arrivata? Tutto in ordine? È a posto? Perché lei è un po' di casa qui, quindi vuole fare un po' il boss. Esatto, quindi è arrivata, comunque qui certifichiamo. Mi vedete, sto bene. Tu hai questa grazia, questa simpatia, questo... Cioè, in questo sei... non hai i baffi, ma sei tanto, papà. Oddio, meno male. No, nel senso ci mancherebbe, però voglio dire... No, scusate, non hai baffitona, però sei tanto, sei tanto. Sì, sì, devo dire questo... Ora, grazie per la generosità, spero poi quando uscirò chissà cosa direte di me, però... Non siete i primi a dirmelo, non sei la prima a dirmelo, e credo è una grande qualità che contraddistingueva mio papà, e lui è sempre stato... si dava molto generoso, non in termini per forza materialissimi, no? No, tuo padre era un uomo generoso, era un uomo generoso in ogni gesto. Sì. Nelle parole, nei sorrisi. Sì, devo dire... Nelle piccole, grandi cose lui lo era. Sì. Allora, signori, abbiamo tantissime cose da dirvi. Quella volta che Carolina si tagliò i capelli come Brad Pitt, quella volta che Carolina imparò una ricetta, che tuttora però non è completa. E voi dite, voi parlate di Alberto Castagna e di ricette? Dateci tempo. Siamo pronti ad avere in studio Carolina, Alberto e tutti voi. Ci vediamo tra un attimo. Grazie. Dunque, quando uno sente questa canzone, Carolina Castagna, nostra ospite, è graditissima. Quando uno sente questa canzone, pensa che i Beatles l'abbiano scritta per papà. Sì, confermo. Io l'ho pensato per tutta la vita, insomma, fino a che l'ho scoperto che realmente i Beatles... L'avevano pensata qualche tempo prima, ma di fatto tuo padre che passa dalla Rai a Mediaset portandosi dietro tutto il suo pubblico, facendosi amare, continuare ad amare come se quel salto non ci fosse mai stato. Perché a volte succede, sapete, no? Si è abituati a vederti in un luogo e magari in un'altra rete è tutto un po' diverso. Invece no, successo clamoroso, stranamore. Stranamore cos'era per te quando vedevi? Allora, io stranamore non lo seguivo. Perché dovevo andare a dormire, quindi non lo potevo guardare. Queste ingiustizie proprio, bisogna andare a dormire i bambini, è terribile. Di solito lo aspettavo prima di andare a dormire, cioè salutavo papà sapendo che era lì, poi magari non era registrato, quindi lui era partito qualche giorno prima per Milano, però c'era un po' questo rito. E stranamore era, io veramente quando sento questa canzone, vedo, quando sento All You Need Is Love, per me è solo stranamore. Papà si divertiva tanto a farlo, credo che sia stato uno dei primi programmi apprezzati o meno, ma che parlassero effettivamente di sentimenti, cioè è stato comunque molto all'avanguardia per quei tempi. Prima non c'era e poi è arrivato, ha cambiato la regola, diciamo così. Noi vogliamo anche, voglio ricordare, due persone. Il primo è Paolo Taggi, che è un amico che noi portiamo sempre nel cuore, che è stato grandissimo autore di Stranamore al fianco di Alberto Castagna, e gira a voce che Carolina, piccolina, giocasse con Giacomino Taggi, bambino. Quindi c'era anche questo piccolo asilo, diciamo così, no? Si giocava. Si giocava. Si giocava. Allora, questa musica, che cosa dice con Stranamore di Alberto Castagna ancora oggi alle persone? La nostra Marta Manzo, armata di microfono e di telecamera, è andata a scoprirlo. E noi a Carolina e a tutti voi lo presentiamo così. Vabbè, ma questo è Stranamore. Guardavo sempre Stranamore, sì. Il programma a me piaceva tanto. A me è rimasto in mente più che altro il camper quando entravi dentro e la musica più che altro, perché ero tanto piccolo. Lo guardavo con i miei genitori e mi ricordo di questo van, Pullman, con la scritta Stranamore. che Pullman era bianco. Con mamma l'abbiamo visto sempre. Il camper che girava nelle piazze andava a raccogliere, a raccogliere, a cercare o i ragazzi o le ragazze, a seconda di chi chiamava. Andava in onda perché ci si credeva di più nel matrimonio, nell'amore. Oggi non sarebbe possibile un programma del genere. Lo guardavo, mi ricordo io abito a Polveriggi e era anche venuto a Polveriggi. Alberto Castagna come presentatore era capace, insomma, nel lavoro che svolgeva. Era abbastanza sobrio, non era mai eccessivo. Mi piaceva come era lui, come era il presentatore. Sorridente, dolce, sempre, diciamo, affettuoso, paterno, diciamo, quello che mi viene in mente ora. Mi dava l'idea di essere un personaggio buono, tipo Mike Buongiorno. Era simpatico, sapeva trattenere bene il pubblico, con la sua ironia. Anche un po' piacione, perché giocava molto col pubblico femminile. Forse lui aveva anche un rapporto con noi, con noi pubblico, diciamo, anche a casa, che era, cioè, entrava nella famiglia, ecco. Era uno di noi. Il nuovo spettacolo è piacere. Bello. È simpatico. Baffi, sempre appruzzato, biondino. Mi è piaciuto sempre in tutto e mi è dispiaciuto la perdita. Grande persona, faceva ridere, persona anche seria. Peccato che è andato via. Carolina, peccato che è andato via, perché poi quello è, no? Sì, è una frase che mi ha fatto quasi commuovere vedere queste persone che io sento vicine perché mi scrivono costantemente. Mi scrivono? Sì, non sono proprio queste qui, però mi scrivono e mi dicono quello che hanno detto queste persone qui. Cioè, era uno di noi, peccato che se ne è andato, se ne è andato troppo presto. Poi, ovviamente, tantissime persone se ne sono andate troppo presto e non c'è una classifica o una gara. Però... No, però questo era tuo padre. Sì, era mio padre. Vedi questo per le anni tesoro. Certo. Però questa vicinanza che le persone esprimono, appunto, mi ha colpito questa signora che ha detto che era uno di noi. e per me è un po' quello di cui mi sento fiera, cioè quando le persone me lo dicono. Non si è mai creduto, non è mai cambiato. E in questo lo riconosco molto, quindi mi fa piacere quando lo dicono. Grazie per questa immagine. Senti, meraviglia! Altra cosa importante, purtroppo, Alberto non c'è più da tanti anni, quando il pubblico ti vuole bene non muori mai. Questa è un'altra regola. Quando il pubblico ti vuole bene non muori mai. E quindi Alberto Castagna lo consideriamo qua, presente, in studio. Allora, ma i baffi, i baffi, così usciamo dalla commozione, i baffi, questi baffoni. È vero che avessi, quanti profumi aveva papà? Oh mamma mia, papà aveva, penso, una trentina di profumi esposti. Che classe, esposti. Esposti. Io mi ricordo che sembrava di stare in una profumeria ogni giorno, perché poi lui te ne faceva sentire uno, poi diceva no, questo lo metto domani, e poi, no, questo non va bene per questo appuntamento, figura di una bambina. Io penso, ho avuto l'avversione per i profumi, io odio i profumi. Troppi nei visti, no? Allora, attenzione, attenzione. Adesso arriviamo anche all'uomo di televisione, come se ci arriviamo? E a quell'inizio, a quella partenza, a quell'intuizione avuta da un grandissimo uomo che è la televisione, ma ve lo svegliamo tra un attimo. Papà, perché se no non regge tutto il nostro discorso, no? Allora, c'è una canzone che vorrei farvi sentire, tutta in rosa, come la bambola che si vestiva e che si veste tutta di rosa, che è un po' una dedica a Carolina. Il tuo papà ti ha, lo ripetiamo ancora, ti ha adorato, ma ti ha anche trattato... Barbie Girl, la posso sentire? Sì, sì, certo che la posso sentire. I'm a Barbie Girl in the Barbie World Eh, parliamone. Quanti anni avevi, Carolina? Ma forse no, però avrei avuti... No, forse quattro, qualcosa del genere, diciamo. Però me lo ricordo, quindi sicuramente più di due. E lui fece in modo di invitare in trasmissione gli acqua? Gli acqua, sì. Li salutiamo. Li salutiamo tanto, gli acqua. Perché è questo il bello? Abbiamo delle immagini meravigliose che vogliamo mostrarvi. Sono immagini private, di filmini. Noi abbiamo ripetuto a oltranza otto secondi e li abbiamo messi a rallentatore. E ve li riproponiamo. Perché tu sei stata una bimba, sei una bimba, che tuo padre ha adorato e adora. Da quell'altrove dove si trova. Però non sei mai stata una bambina viziata. Cioè tu sei sempre stata una bambina simpatica, Carolina. Eh, sì. Non la viziata. Cioè, vabbè, all'inizio ti avrei anche viziato un pochino. Non so se ho chiesto. Forse, allora, sì. Io sono stata viziata, comunque. Perché mio padre avrebbe fatto qualsiasi cosa per me. Mi avrebbe... Tipo, voglio andare a cavallo. Mi comprava tutto quello di cui avrei avuto bisogno, di avere bisogno per andare a cavallo. Mio padre mi avrebbe regalato qualsiasi cosa, se io avessi detto A. un giorno, come ho raccontato già, mi ha comprato 50 mila lire di gole ad orra, perché io volevo, gli ho detto, possiamo comprare? Le liquirizie, volevi quelle? Sì, possiamo comprarle. Lui mi ha detto, certo, così. Quindi a un certo punto, io credo, da bambina, ho avuto il... Sai come funzioni un po' il contrario, no? Se ti danno tutto, tu dici, ma forse è meglio che... Non chiedo più, perché... Dipende dai bambini, Carolina. I bambini saggi fanno come te. Non lo so. I bambini saggi. Un metodo, sarà un nuovo metodo di educazione, non lo so, però lui veramente avrebbe fatto la qualunque. E io poi non volevo farcelo rimanere male, cioè dirgli magari, sì, voglio andare a cavallo, farlo una volta, come fanno tutti i bambini, e dire, non mi piace. Non mi piace più. Dicevo, Dio, ma come glielo spiego a papà che mi ha comprato tutte queste cose? Mi avrebbe comprato anche il cavallo, se fosse stato possibile. Uno? Si parla addirittura di una scuderia. No, sto scherzando, non avrebbe comprato una scuderia, però siamo lì. Allora, papà Alberto Castagna è stato ed è rimasto per tutta la vita un grandissimo giornalista, inviato del Tg2, e poi c'è un uomo che è la televisione, che lo scopre, ne intuisce non solo le potenzialità, ma tutta la grandezza, e cammina al suo fianco e lo fa diventare grande, 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 e questo signore, ovviamente, ha voluto lasciare anche lui una cartolina per la nostra Carolina. Lo riconoscete subito? Il comitato che fa? Andiamo. Carissime, innanzitutto, un saluto alla bravissima padrona di casa, Paola Saluzzi, ciao cara, e poi un saluto a Carolina. Cara Carolina, tu lo sai che io sono stato tra i primi a sapere che stavi arrivando al mondo. Ero con papà tuo quando la mamma comunicò, la conferma, che tu stavi arrivando. Lui ebbe un momento di gioiosa, felice paura, mi diceva come farò, sarò un bravo papà, ce la farò. Io gli disse di sì, e certamente è stato sempre un bravo papà, io lo so. Poi ci è mancato, ci è mancato tanto, io con lui mi sono divertito moltissimo, lui era di una simpatia, era sempre pronto alla battuta, si divertiva a vivere, e io così lo voglio ricordare, e così vi voglio salutare. Ciao a tutti, buona giornata. Michele Guardini, Michele Guardini, grazie sempre. Si divertiva a vivere. Che carino. È bellissima questa frase di Michele. Si divertiva a vivere. Ha ragione, io credo che, ecco, ho avuto la sfortuna di aver perso papà da piccola, però ho ancora oggi la fortuna di avere delle persone che mi ricordano delle cose di lui, e questa è un'altra, è vero, lui amava così tanto la vita e questa cosa la trasmetteva a tutti poi, di fatto. Era in grado di passare questo a tutti. Alberto Castagna cucinava in maniera strepitosa. Era uomo di mare, soprattutto. Era un uomo capace, quella barca scarola. Era uomo di mare, a tutti gli effetti. Era una persona strepitosa ed era una persona che aveva l'abitudine di fare cene con tanti suoi amici televisivi e non... Eccolo qua. Rimanete su questo tema della cucina. Mettete un asterisco alle polpette, mi raccomando. Parleremo di polpette tra poco. Polpette Castagna, mettete un asterisco. Invece adesso noi ascoltiamo una persona che è stata fondamentale nella vita di papà come cognato e come autore e nella tua vita come zio, cioè Pasquale Romano. E qui l'ho dovuta svelare prima, la sorpresa. Di solito noi diciamo, ha mandato una cartolina. Perché? Perché queste parole di questo zio, di questo nobilissimo autore televisivo, ma è zio e basta in questo momento, sono così belle che noi le regaliamo a Carolina e le regaliamo a tutti voi. Sentite. Ciao Carolina e ciao Alberto. Quando penso ad Alberto in realtà penso più a... che è un ricordo, penso a una presenza. Forse è la cosa più bella che ci avvicina, no? Pensare che Alberto non sia solo il papà che non c'è più, il cognato che non c'è più, l'amico che non c'è più, però è anche l'idea di una presenza. E questa è la cosa bella. Cioè Alberto è come se ci seguisse costantemente. Almeno è quello che provo quando mi dicono ma Alberto, ma Alberto in fondo sta qua. Sta nel mare di Sabaudia, sta nella gioia di vivere, sta nel vino bianco, nel pesce crudo, anche nella televisione. ma paradossalmente quello che mi lega di più ad Alberto è stato ed è la curiosità e l'amore per la vita. E questa è la cosa più bella. E questo è quello che poi penso tu abbia ereditato, no? Che sei un medico, una dottoressa, però poi sei curiosa e adesso scali le montagne. Ed è la tua passione. e forse quella passione in fondo è radicata in quello che ti ha trasmesso papà e in qualche modo ha trasmesso a noi che gli siamo stati vicini. l'idea che la vita vada vissuta fino in fondo. E allora, nel giorno che lo ricordi, ma non smettiamo mai di ricordarlo, la cosa più bella è pensare che Alberto ci sia sempre. Sia quasi un ricordo fisico e che sia quasi materia che si fa carne. E allora, un bacio forte. aneddoti sono tantissimi, sarebbe da elencarmi tantissimi. Però la cosa forse più forte è che la sua presenza, nonostante l'assenza, che tu porti dentro di te, che tutti noi portiamo. E quindi un bacio a Carol, un saluto a voi e un bacio ad Alberto. Noi lo portiamo dentro. Ciao! Grazie Pasquale, grazie a te, un bacio a te. Mi devo riprendere. No, non me l'aspettavo questo. Soprattutto perché Zio è un filosofo, è una persona che parla e racconta le cose in maniera meravigliosa e l'ha fatto anche stavolta. Vengo da una buona famiglia. Sì, decisamente. La frutta casca, torna all'albero, non lo dicevo da tempo. Allora, Pasquale Romano ci ha svelato, lo zio Pasquale, ci ha svelato, ci ha sottolineato questa tua, due cose di te. Tu sei una dottoressa, ti sei laureata in medicina. Sì. Tua mamma è una straordinaria dermatologa, tua mamma è una dottoressa. Ma ti dirò di più, papà ha studiato tre anni di medicina. Oh là là, non sapevo questa. Prima di passare alla storia. quindi insomma ero destinata un po'. Eri destinata. E l'hai fatto. Forse una bambina che insiste per entrare in sala di terapia intensiva, vede suo papà, qui dobbiamo dirlo, senza baffi, vede suo papà intubato, gli fa la cassetta delle... Le barzellette. Le barzellette, tesoro. avrebbe anche potuto dire io con il mondo dei malati non voglio più avere niente a che fare. Invece? Allora, mi piacerebbe dirti e invece poi hai trovato la tua strada facendo questo perché... Ma non è proprio così. Io amavo studiare e la medicina mi affascinava tantissimo. E una delle ragioni per cui l'ho fatto è anche intraprendere questi studi perché credevo mi potesse anche un po' aiutare, no? Ad esorcizzare il fatto che prima o poi tutti ci ammaliamo, a tutti succederà qualcosa. Maria, a questo volevo arrivare, non voglio salvare la vita di tutto il mondo. Esatto. Però poi ho trovato la mia diciamo dimensione nella ricerca che mi ha un po' salvato e mi ha permesso di rimanere un medico e di continuare gli studi che è una cosa che mi piace. Senti, dottoressa Castagna, se papà si fosse ammalato oggi tu oggi l'avresti fatto rigare più dritto, no? Lui ha anche e non gliene si fa certo una colpa. Ogni tanto si curava poi Sì, guarda, ora invece ti direi farei il contrario. Io l'ho bacchettato come una una cattiva infermiera di otto anni che lo seguiva in bagno per vedere se si accendeva una sigaretta. Oggi che faresti? Oggi gli lascerai fumare una sigaretta. Quanto sei bella? Una però, eh. Quanto sei bella. Quanto sei bella. Allora, qui è quando si è tagliata la frangia come Brad Pitt, eh? No. E qui che ti sei tagliata? No, allora, qui ho fatto questa questa è una foto orrenda che non mostro a nessuno. Noi ti siamo grati per questo se sei orrenda. La mostreremo solo a non so quanti mille telespettatori. però allora io anche lì avevo questo idolo che ancora ho Brad Pitt se mi vedi chiamami. Sì, certo. Sono sposata però vabbè e io gli ho detto a papà ti prego mi devi far conoscere Brad Pitt e lui ha detto oddio ma uno più facile no? E che cosa fa? Trova il modo di andare alla premiere di Ocean's Eleven quindi il primo di una serie. Io poco prima ho questa malaugurata idea di tagliarmi i capelli perché lui all'epoca non mi ricordo neanche se stava con Jennifer non so con chi stesse però stava con una quella frangetta. Ah! Quindi la Carolina aveva un... Peccato che non ero io. No, no, eh... Allora non mi so... Ci dona. Ci sono frangette tagliate meglio ma era bellissima. Basta chiudiamo qui la questione. Stop. Allora a 12 anni a 12 anni unica discussione vera 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 contro con e contro papà Carolina dice voglio andare in Inghilterra perché com'era la regola studia molto impara una lingua straniera e insegui sempre le tue. Esatto studia molto fa quello che ti piace e devi parlare almeno due lingue. Due lingue ah sa due 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 e no non tu non ci fu questa cosa no nel senso che no ma le disse anche prometti che ti fidanzerai solo a 37 anni sì sì proprio 37 37 invece questa ragazza che ha imparato a superare delle montagne alte come l'Himalaya perché perché lei bambina accanto ad una famiglia e con una famiglia splendida però ha superato montagne più alte dell'Himalaya che dicono essere la montagna più alta del mondo signori ce l'abbiamo qui sposata anti sposanda perché sta proprio infilando l'anello in questo momento a Carmine detto anche Carmine no no detto solo Carmine solo Carmine perché io mi sono sposata un americano che ha origini italiane come tutti gli americani come tutti gli americani stava a San Dier rivendicano questa italianità ma non parla l'italiano allora io gli ho detto che lo potremo chiamare tutti Carmine quando avrà imparato l'italiano avete capito com'è una piccola richiesta piccola richiesta no papà voglio conoscere Brad Pitt Carmine Carmine parla l'italiano allora Carmine lei lo ha conosciuto vivono in America noi abbiamo preso mettendo il sale sulla coda la dottoressa Carolina l'abbiamo presa qui a Roma dove si sono conosciuti ma ovviamente in un meraviglioso party con una bicchiere in mano no ella si arrampica quando dico si arrampica e ha superato tutte le montagne dico la verità cioè tu mentre papà hai il mare tu hai preso il mare l'hai rovesciato le montagne no io faccio anche il mare io faccio io sono sei anche un buon mozzo di bordo faccio tutto faccio tutto all'occorrenza ma purtuttavia purtuttavia sì ci siamo conosciuti scalando oddio sì quella sono io ma mamma ti vede quando fai queste cose sì sì delle volte mi chiede anche ma non vedo la corda io dico mamma la corda c'è ma la corda c'è il solo colore della montagna ton sur ton però le vede sempre dopo diciamo quindi quindi vi siete conosciuti scalando ci siamo conosciuti scalando e lui è molto più bravo di me però mi ha inserito vabbè tanto lui non lo capisce quello che sto dicendo quindi lo sa lo sa è molto più bravo di me è molto più bravo di te però lo sto raggiungendo ho iniziato più tardi allora la ragione per la quale ho iniziato a scalare è io sono stata sempre un appassionata di mare ho sempre navigato barca a vela nuotare sci nautico surf un po' varie quanto ce n'è? sub e poi a un certo punto mi sono trasferita in America e in America mare grandi montagne oddio non grandi come le nostre però non c'è il mare non era il nostro quindi mi sono dovuta adattare e quindi è un campione di simpatia lei e allora qua ci vorrebbe la frase e la dirò infatti vi ricordate l'asterisco sulle polpette? sì è importante ci stiamo arrivando allora se ora ci fosse qui la porta di stranamore che non c'è e arrivasse papà tu cosa gli diresti? allora gli direi tante cose ma una cosa che gli chiederei è appunto cosa metteva nelle polpette di pesce spada allora io gli direi guardate c'è un motivo per cui sto facendo questa sottolineatura cosa gli diresti? tante cose ma le polpette di pesce spada che faceva Alberto Castagna erano meravigliose non riescono più? no non riescono ci sono stati diversi tentativi fallimentari e non non si trova cosa mancasse cosa manca è vero che tu sognando papà gliel'hai pure chiesto? diverse volte ma io voglio ma c'è un telegatto per la figlia per la simpatia per la grazia per la bellezza non ho parole vabbè quindi ti manca ti manca tutto del tuo papà sì però al tempo stesso? al tempo stesso eh sì sì quelle volte io provo faccio delle domande poi la vita mi dà delle risposte quindi prima di ogni esame gli raccontavo cosa sarei andata a fare insomma io cerco di di farlo mi piacerebbe che lui mi potesse vedere realmente mi piacerebbe sapere che mi vede ecco questo questo non chi lo sa chi lo sa ci piace pensare di sì quindi intanto papà il colore degli occhi è l'azzurro del cielo quindi quando scali hai voglia d'azzurro quando scalo quando sono al mare quando alzo gli occhi sì sì con gli occhi belli come i tuoi ecco l'occhio azzurro non me lo poteva pure dare insomma te lamenti è filenoso guardatela e abbiate pazienza ma io non ho parole ma sempre una ne vogliono allora qui c'è una c'è il telegatto che io miau a Carezzo e c'è il telegatto di maggio 1993 e c'è al mio amore scarola papà ed è la cravatta di stranamore che adesso io metterò ecco qua c'è il telegatto che faccio la tolgo la gravatta da qui se no non si legge la firma eccola qui la vedete questa è la zeppa che abbiamo messo dietro la televisione fa tante di queste cose signori alla dottoressa Carolina noi diamo tutti i baci che abbiamo la ringraziamo tanto per essere stata qui con noi e è vero sei proprio una persona generosa Carolina Castano grazie tanto generosa davvero tanto tanto ci torniamo solo un attimo signori tanto continuiamo a parlare d'amore tra un attimo un attimo e arriviamo un attimo solo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti